Riprenderemo poi il 20 gennaio con l'intervento di Ludovica Boy, che è una ricercatrice dell'Università di Verona, che porterà un intervento dedicato a Giorgio Colli come interprete dei sapienti greci. L'incontro di questa sera vede il protagonista Marco Maculotti, che è un saggista di formazione giuridica ma di spiccati interessi per l'antropologia, la storia delle religioni, il folklore popolare e anche l'esoterismo. Marco Maculotti è collaboratore di numerosissime testate e riviste dedicate a temi di carattere esoterico e tradizionale, tra cui la rivista Artos, di cui forse in parte ci parlerà oggi, e soprattutto è direttore e animatore di Axis Mondi, un bellissimo sito a cui ho avuto il piacere di collaborare anch'io, dedicato appunto ai temi di interesse della sua ricerca e che da quest'anno, a quanto ho inteso, ha anche una versione cartacea. Esattamente, sì, è uscito il primo albo ad agosto, è un albo annuale, quindi... Ottimo, quindi dateci un'occhiata. L'intervento di questa sera è intitolato Gli inframondi di Dante e la tradizione indobuddista. Si tratta di una ricerca che Marco sta conducendo proprio per la rivista Artos, dedicata attraverso un metodo comparatistico all'indagine di alcuni elementi di parallelismo, di analogia, tra la concezione dantesca dell'aldilà, credo in particolare dell'inferno, e alcune prospettive della tradizione orientale, in particolare indobuddista e sciamanica, sul tema appunto dell'aldilà. Io lascio subito la parola a Marco, che ci condurrà all'interno di questa interessante ricerca. Mi scuso perché dovrò assentarmi fra poco per una mezz'oretta, ma poi tornerò collegato e vi invito a seguire la relazione, poi ci sarà come sempre spazio per delle domande. Quindi grazie e a te la parola Marco. Grazie Luca, grazie dell'invito, della presentazione, e grazie anche a voi tutti che seguite stasera questa conferenza appunto sull'argomento che ha già brevemente introdotto Luca. Dico subito che l'ipotesi di lavoro da cui parto non si basa sul fatto che Dante si sia ispirato coscienziosamente, diciamo così, a delle tradizioni hinduiste o buddiste o sciamaniche, che ovviamente sarebbe assurdo da pensare. L'ipotesi di lavoro da cui parto è che appunto la tradizione a cui si rifà Dante nella sua concezione dei mondi sottili, che l'anima raggiunge post-mortem, sia una tradizione come varie tradizioni di cui si parla quando si trattano questi temi, che riguarda il cosiddetto filone della Sofia Perennis, cioè un filone di pensiero esoterico sacro esistente in tutto il mondo nelle varie tradizioni e come connesso da un filo dorato, diciamo così, anche se vedremo che effettivamente anche a partire dall'iconografia dantesca della Divina Commedia e soprattutto le illustrazioni, le prime illustrazioni che sono state pubblicate, come questa che ho messo qui a titolo informativo, a titolo di esempio, vedremo che hanno dei parallelismi molto evidenti con l'iconografia indobuddista di questa ruota del divenire che possiamo vedere qui, il Bhava Chakra. Vedremo anche come diverse concezioni esoteriche che emergono dalla Divina Commedia si possono mettere in relazione appunto con delle concezioni di tipo indouista, buddista e persino sciamanico dell'Asia, ma ripeto, a parte delle piccole ispirazioni che andremo a vedere, la mia ipotesi di lavoro non è assolutamente quella che Dante abbia preso a piene mani dalla tradizione indouista, ma semplicemente che avesse accesso a delle conoscenze iniziatiche che appunto trovano le proprie corrispondenze nei vari filoni di quella che noi possiamo definire Sofia perennis. Per iniziare qui vi ho messo qualche titolo di alcuni autori che hanno studiato gli aspetti esoterici dell'opera di Dante, potete vedere che quelli che ci interessano principalmente stasera sono quelli di De Gubernatis, Dante e l'India e la tipologia indiana di Lucifero nell'opera di Dante che sono stati pubblicati alla fine dell'Ottocento e poi anche, vabbè, Rende Guernon, l'esoterismo di Dante che immagino sia un testo ampiamente conosciuto e poi c'è da sottolineare come anche degli autori indiani come Sri Aurobindo e Tagore abbiano inquadrato l'opera di Dante, soprattutto la Divina Commedia, da un punto di vista per così dire orientale e l'hanno definito tantrico e l'hanno definito come un Rishi. Il Rishi nella tradizione induista è quel sapiente che, grazie alle sue conoscenze iniziatiche esoteriche, riesce poi a traslarle nelle sue opere poetiche e riesce a raggiungere appunto l'intimità dell'ascoltatore, del lettore e risveglia nel lettore o nell'ascoltatore queste conoscenze esoteriche. Iniziamo subito allora a dire come Dante abbia potuto parzialmente conoscere delle tradizioni iniziatiche di tipo orientale, di tipo induista più che altro. È l'orientalista Alessandro Grossato che avanza questa ipotesi riprendendo un saggio di Stuart Gordon in cui si definisce questo millennio tra il 500 e il 1500 della nostra epoca come il millennio asiatico e sostiene che anche una grande quantità di autori occidentali siano stati influenzati in qualche modo dall'influsso orientale e soprattutto Grossato fa notare come lo stesso Brunetto Latini, cioè il maestro di Dante, in una sua opera, Tesoretto, parli proprio dell'India e parli in maniera, con termini esoterici, iniziatici, con delle tematiche che poi andranno anche, e verranno riprese nella Divina Commedia che come sappiamo pone il Gange come il confine orientale, l'estremo orientale del nostro mondo, diciamo così. Infatti se noi leggiamo questo estratto riportato da Grossato di Brunetto Latini si definisce l'India come il paradiso terreno, come l'Eden praticamente e ricorrono una serie di topoi come quello dell'albero della vita, come quello di una primavera perenne senza né freddo né caldo, oppure ancora il topos della fontana dell'acqua della vita, insomma sono tutti dei topoi che nella tradizione orientale vengono connessi all'Eden, quindi solitamente a Gelusalemme, e invece nella tradizione orientale noi vedremo che poi sono connessi a quello che viene definito il Monte Meru, che è questo simbolo dell'Axis Mundi nella tradizione induista, che connette appunto tutti i piani di manifestazione, e quindi permette all'uomo di fare esperienza degli altri piani sottili. Diciamo subito che ovviamente la Divina Commedia è fondata su una conoscenza iniziatica elevatissima di questi mondi sottili che io ho chiamato inframondi, in questo contributo, in questi slides, e poi anche questa dottrina vedremo a dei fortissimi punti di contatto con la dottrina sciamanica, l'idea che l'individuo in uno stato di grazia, di coscienza elevata sappia e riesca ad accedere a altri mondi sottili, a questi inframondi appunto, che nell'opera di Dante vengono traslati come i mondi post-mortem, cioè i mondi in cui l'anima giunge dopo la dipartita fisica, e vedremo come comunque anche nella tradizione orientale si pensa che gli unici individui che riescano ad accedere a questi mondi sottili prima della dipartita fisica siano appunto gli sciamani, oppure i veggenti, i rishi, nella tradizione induista, comunque qualcuno che ha uno stato di coscienza più elevato rispetto all'individuo normale, però anche nella tradizione induista e buddista non c'è questa differenziazione tra mondi post-mortem e mondi sottili, nel senso che questi mondi sottili sarebbero a disposizione dell'individuo che li sapesse raggiungere appunto in questi stati di coscienza avanzati, elevati. Soprattutto se andiamo a studiare il cosiddetto libro tibetano di morti, cioè il bardo todol, noi troviamo tantissime corrispondenze tra la narrazione dantesca delle tre cantiche della Divina Commedia e appunto queste esperienze che vengono descritte nella tradizione orientale. E Giuseppe Tucci, un notissimo studioso del Novecento orientalista, fa notare come anche nella tradizione orientale queste due sfere come abbiamo già accennato sono in relazione, cioè la sfera dell'uscita da se stessi e del viaggio nell'aldilà è quello della redenzione dell'anima, che anche se spesso il buddismo viene visto in maniera scorretta, come una filosofia di vita e non come una religione, invece è chiaro da questi testi sacri come anche vedendo poi corrispondenze con il libro egiziano dei morti oppure con la tradizione del cristianesimo celtico, cosiddette navigazioni, cioè questi viaggi dei santi nell'altro mondo e sono ovviamente delle descrizioni di mondi sottili e di mondi spirituali soprattutto, questo è molto importante, anche il mondo infero, il mondo inferiore, l'inferno di Dante appunto è un mondo sottile, non è solo un mondo di punizione come vedremo poi che è anche quello ovviamente. Io ho scelto di partire questa discussione da una correlazione evidente, cioè che i tre inframondi danteschi, gli inframondi purgatori, il paradiso si possono innanzitutto mettere in relazione con i tre guna della tradizione induista. I guna sono gli elementi sottili e onnicomprensivi che influiscono senza posa sulla manifestazione cosmica, creando e influenzando il karma di tutti gli esseri e quindi facendo in modo che questi esseri non ancora illuminati si rincarnino continuamente nel circolo appunto samsarico di morte e rinascita. Questi tre guna della tradizione induista vedremo che si possono correlare perfettamente ai tre inframondi danteschi in quanto sattva che è il guna più elevato, diciamo così, che è collegato al colore bianco, è sempre connesso a questa caratteristica di purezza, di conoscenza, di luminosità, di distacco anche dalle passioni, oltre che dal mondo grossolano della materia, e di conseguenza va di pari passo col paradiso. Invece Rajas, che è collegato al colore rosso, va di pari passo col purgatorio in quanto è connesso, nel pensiero induista, a una sorta di azione dinamica, a un desiderio, a una passione, a un'instabilità che allontana il soggetto dall'illuminazione fondamentalmente, dall'uscita dal ciclo samsarico. Si noterà subito che Rajas non è caratterizzato come negativo di per sé, ma semplicemente si sottolinea che ha a che fare con un'azione appunto, con un distacco dalla pace dei sensi, diciamo così. E invece è Tamas, che è connesso al colore nero e all'inferno dantesco, a mio parere, che è quell'elemento sottile del cosmo che causa tutto ciò che noi possiamo considerare negativo per l'incarnazione, come l'ignoranza, l'oscurità, la violenza, la gelosia, tutti questi sentimenti che sono proprio negativi in sé, non semplicemente perché allontanano dal nirvana oppure dalla pace dei sensi. Qua ho messo due strati, due frasi della Bhagavad Gita in cui si dice E l'altra citazione, sempre dallo stesso capitolo, dice Avendo superato le tre qualità che producono il corpo, l'incorporato, liberato dalla nascita, dalla morte, dalla vecchiaia e dal dolore, accede all'immortale. L'idea dunque che c'è nella tradizione induista che si lega alla dottrina dei tre guna è che l'individuo debba superare questi tre guna, persino quello superiore che è Satva, deve essere superato e ovviamente si supera prima gli elementi più grossolani, quelli di Tamas, poi quelli di Rajas e poi infine si superano, si deve superare anche la guna Satva per accedere appunto al nirvana. È importante sottolineare che Satva non è il nirvana, Satva è quel guna che conduce l'individuo verso il nirvana, però deve essere superato anch'esso per accedere poi al nirvana vero e proprio. In questo senso noi possiamo connettere questa dottrina al viaggio di Dante attraverso i tre mondi, cioè prima supera il mondo infero, poi supera il purgatorio salendo appunto la montagna che poi vedremo, è connessa anche questa dal simbolismo orientale, e poi infine supera i cieli, i sette cieli planetari, il cielo delle sede fisse e poi per infine accedere al cielo superiore che appunto sarebbe questo il nirvana, quello del primo mobile fondamentalmente. A livello iconografico ho già accennato che già le prime illustrazioni che volevano illustrare appunto la divina commedia sembrano, a parere di Grossato, dell'orientalista Alessandro Grossato, da riconnettersi in qualche modo all'iconografia indotibetana, indobuddista, del già menzionato Bhava Chakra tibetano, cioè la ruota del divenire, un mandala che viene fatto tradizionalmente di salire alla richiesta del Buddha di poter dare anche ai neofiti un'efficace visualizzazione dei destini postumi. Quindi vediamo che anche nella tradizione induista e buddista questi inframondi, questi mondi sottili, sono anche i mondi in cui l'anima giunge post-mortem, come vedremo poi in maniera più succosa nel proseguo della conversazione. Questo per esempio è questa illustrazione di Francesco da Barberino, che è uscita proprio negli anni immediatamente successivi alla prima pubblicazione della Divina Commedia e vediamo, è questa qui a sinistra ovviamente, vediamo che già la spazialità di questa illustrazione sembra richiamare tantissimo il centro, il mozzo della ruota del divenire, del Bhava Chakra, di questo importante mandala indobuddista che si rifà appunto a queste dottrine. Vediamo che nell'illustrazione di Francesco da Barberino le anime dei disincarnati sono divise in due cerchi concentrici e vediamo che, come anche appunto nell'iconografia buddista, in entrambe le iconografie vediamo che a sinistra ci sono delle anime che ascendono alla perfezione divina e di contro a destra ci sono delle anime che cadono nei mondi inferi praticamente. Potete giudicare voi stessi quanto la comuna corrispondenza sia assolutamente evidente a mio parere. Al centro invece dell'illustrazione di Francesco da Barberino abbiamo questo fuoco infernale oppure questa bocca di un mostro infernale non si capisce bene che appunto risucchia queste anime destinate alla dannazione. E invece al centro del Bhava Chakra, cioè della ruota del divenire indotibetana vediamo questi tre animali e anche questo è una caratteristica che trova il suo corrispettivo in Dante. Qualcuno ci sarà già arrivato, probabilmente si tratta ovviamente delle tre fiere dantesche che vengono menzionate nel primo canto dell'Inferno. Ma andiamo prima a leggere questa citazione di Grossato appunto su queste illustrazioni di Francesco da Barberino. Un disco di colore nero fa un tempo da sfondo e da cornice all'intera scena che è animata da due cerchi concentrici di figure umane connotate da un evidente movimento rotatorio attorno a una figura centrale piuttosto confusa che sembra raffigurare l'ingresso fiammeggiante dell'Inferno più semplicemente della bocca di una creatura infernale. L'accentuata nudità di queste figure assieme ad altri dettagli in particolare al movimento circolare delle anime che da una parte salgono verso l'alto redimendosi mentre dall'altra scendono verso il basso dannandosi. All'occhio di un orientalista non può non ricordare quei due cerchi concentrici di anime dipinte su uno sfondo metà bianco e metà nero che viene tradizionalmente posto al centro della complessa struttura grafica del Bhava Chakra la ruota del divenire. E invece per quanto riguarda appunto le tre fiere dantesche e questi tre animali della tradizione hindu-buddista che vengono denominati i tre veleni noi vediamo che c'è una correlazione evidente perché i tre veleni, cioè i tre animali simbolici che appaiono nel centro, nel mozzo di questa ruota hanno una precisa valenza allegorica cioè il maiale o il cinghiale rappresenta l'ignoranza il serpente, la rabbia e il risentimento e infine il gallo, il colombo, l'attaccamento alle cose materiali e al desiderio. E sotto l'influenza di questi tre veleni gli esseri umani come intossicati generano karma che ormai continuano a reincarnarsi nel ciclo delle reincarnazioni. È evidente il parallelismo con lupo, leone e lons di tre fiere che impediscono a Dante perso nella servoscura di raggiungere il colle illuminato dal sole. Quindi vediamo che simbolicamente in entrambi i casi questi tre animali impediscono l'individuo, il narratore di raggiungere l'illuminazione fondamentalmente. E come abbiamo già visto nel caso indobuddista rappresentano anche nell'opera di Dante tre disposizioni peccaminose ben definite cioè l'avarizza, la superbia e la lussura ovvero, come dice Dante, le tre faville che ci hanno i cuori accesi cioè che impediscono in qualche modo all'individuo di superare le sue passioni e di accedere al mondo divino. Dopo aver fatto una breve introduzione io penso che già abbiamo siamo stati fin troppo tempo su questa introduzione siamo già più di 20 minuti io passerei alla struttura vera e propria di questi inframondi nella tradizione indobuddista e poi vedremo ovviamente già vi faccio vedere brevemente poi ritorniamo su questa immagine comunque i mondi sottili il cosmo, la geografia sacra della Divina Commedia se noi già vediamo anche in queste forme illustrative ricordano tantissimo la concezione grafica proprio dei mondi sottili dell'induismo che come vediamo il settimo mondo qua è il nostro quello in cui vivono gli uomini ci sono sette mondi ci sono i mondi superiori qua non so perché sono sei ma in realtà sono sette e poi i mondi inferiori inferi sotterrani che sono anche questi sette e sono chiamati patala nella tradizione induista oppure naraka nella tradizione connessa alla yamaloka che è un modo di definire il mondo sottile in cui l'anima giunge dopo la morte vediamo dunque che il mondo il mondo in cui viviamo il mondo di tutti i giorni sta a metà tra questi mondi sottili cioè sette mondi superiori sette mondi inferiori anche se nell'iconografia dantesca i sette mondi inferiori come possiamo vedere non sono rappresentati nel cosmo diciamo così al di fuori del piano terrestre ma in un piano in qualche modo sotterraneo nella terra sotterranea è semplicemente una differenza iconografica che però non infiscia la corrispondenza sottile di questi mondi sottili superiori e inferiori abbiamo già menzionato anche il monte Meru cioè che nella tradizione induista è connesso al devaloka cioè ai mondi superiori a cui l'anima accede se ha dei meriti dei meriti molto elevati diciamo però nell'opera di Dante la montagna non è connessa al paradiso come sappiamo ma al purgatorio non che cambi tanto in realtà il simbolismo perché anche qui come possiamo vedere in questa illustrazione della montagna del purgatorio vediamo che è molto simile al monte Meru nella tradizione induista che è appunto suddiviso in vari piani a cui si sale sempre di più per raggiungere appunto la cima che sarebbe il devaloka cioè il mondo sottile in cui dimorano gli dei e le anime meritevoli insomma di stare con loro quella cima del Meru nella tradizione induista da quella della cima del Meru inizia il devaloka appunto al di sotto via il pitraloka cioè che è il mondo sottile in cui le anime dei defunti accedono e però appunto devono superare questo mondo intermedio per raggiungere il devaloka come vedremo poi invece le anime non meritevoli accedono ai sette livelli inferiori cioè i sette patala o sette naraka a seconda della tradizione induista a cui ci si riferisca però vediamo che simbolicamente anche se la montagna è connessa nell'opera dantesca al purgatorio abbiamo visto che simbolicamente il concetto è il medesimo cioè l'anima per accedere al devaloka al mondo superiore al mondo celeste deve passare attraverso questa montagna e raggiungere la cima appunto è la stessa idea del purgatorio alla fine come possiamo vedere e inoltre se andiamo con la mente al tredicesimo canto del paradiso quando viene descritto il primo mobile che ruota attorno alla stella polare e alle limitrofe con le stelle azioni delle orse vediamo che è anche questa una dottrina che ritorna nell'induismo dove appunto si pensa che il polo nord celeste cioè la polare e le orse ruotino intorno appunto alla cima del monte Meru e quindi sia nell'opera di Dante che nella tradizione indo-buddista il nord celeste viene considerato come il culmine della creazione quella sialità tipica di tutte le culture tradizionali le dottrine tradizionali che appunto consente all'anima disincarnata oppure all'anima dell'operatore sciamanico mistico di accedere appunto al mondo uranico al mondo celeste degli dei il nord quindi come centro come centro assiale che è una tradizione tra l'altro che ritorna in tutte le culture sciamaniche dell'Asia centrale dell'Asia settentrionale e dell'Eurasia come per esempio quella dei Lapponi in Finlandia infatti in tutte queste culture la stella polare viene definita con una serie di termini che ho riportato qui in questa slide come stella chiodo chiodo dal cielo pilastro del mondo pilastro solare pilastro d'oro pilastro di ferro l'idea che sta dietro a questa dottrina che appunto noi vediamo ritornare sia nell'induismo che nello sciamanesimo che nel buddismo che persino in Dante è quella che appunto il nord celeste il nord cosmico il polo nord celeste cioè la stella polare sia il centro assiale della creazione a cui appunto l'anima disincarnata o l'anima dell'operatore mistico può accedere per raggiungere Dio o gli dei nelle varie tradizioni e adesso passiamo come già anticipato siniscalco al fulcro della nostra discussione di oggi che si basa più sull'inferno in realtà che sugli altri mondi anche se cercheremo ovviamente di vedere anche i destini dell'anima nella dottrina dello Yamaloka anche per i mondi superiori cioè appunto il Devaloka che abbiamo già anticipato e il pitra loka innanzitutto si può partire questa discussione sottolineando le corrispondenze che vi sono tra minosse nell'opera dantesca e questo personaggio chiamato Yama Dharma Pala cioè custode del Dharma custode della giustizia cosmica in qualche modo che come vedremo hanno delle corrispondenze molto evidenti bisogna un attimo innanzitutto rinfrescare le idee sul ruolo di Minosse nella Divina Commedia Minosse accoglie le anime nell'inferno e ha questo serpente la sua coda serpentina anzi che gli si avvolge intorno al corpo un certo numero di volte a seconda del cerchio del girone infernale a cui l'anima è destinata questa è una caratteristica che noi troviamo sia nella iconografia di Yama che vediamo in questa immagine con un serpente annudato intorno al collo e che probabilmente allude ai nodi del karma perché anche Yama nella tradizione induista appunto indirizza le varie anime a seconda dei propri meriti e demeriti nei vari mondi sottili quindi nei sette Patala o Naraka inferiori oppure nei mondi sottili del Pitra Loka e del Devaloka ancora qui in alto vi faccio vedere brevemente anche questa immagine si tratta di divinità antiche di varie tradizioni le quali pure sono nell'iconografia rappresentate con questa caratteristica quella di presentare il proprio corpo scinto da delle spire serpentine che anche in questo caso vediamo brevemente che alludono ai sette mondi solitamente sette perché si riferiscono ai cieli planetari superiori o inferiori a seconda della divinità il primo è fanes divinità degli orfici nell'antica Grecia vediamo il ciclo dello zodiaco intorno e questa la corda del serpente ancora che passa intorno al corpo un certo numero di volte a sottolineare questi cieli superiori che l'anima deve superare e poi superare anche il cerchio delle stelle fisse che sarebbe l'ottavo cerchio per poi uscire dalla manifestazione cosmica diciamo così raggiungere il mondo della divinità infatti fanes tra l'altro nella tradizione orfica era considerato il primo dio nato a questa caratteristica di essere considerato la prima divinità apparsa nel cosmo quindi questa iconografia noi possiamo connettere quanto abbiamo già detto dall'uscita dell'anima dal ciclo di reincarnazioni quindi dal ciclo dai sette cieli planetari e anche dal cielo delle stelle fisse la seconda divinità è Aion un'altra divinità del mondo ellenistico rappresentato con una testa leonina e anche qui vediamo le spire serpentine e poi il globo su cui appunto il globo terrestre su cui si adagia coi piedi la terza divinità è Serapide un'altra divinità in questo caso dell'Egitto anche se anche qui ellenizzato e è una divinità Serapide che viene considerata da alcuni autori come divinità celeste e da altri come divinità del mondo sotterraneo Sarapsi vorrebbe dire il signore del mondo sotterraneo appunto dell'abisso anzi Sarapsi Abisso di conseguenza l'iconografia delle spire serpentine per Serapide può valere sia nel senso dei sette mondi superiori che nei sette mondi inferiori quelli infernali appunto l'ultima l'ultima divinità che ho riportato è una divinità iranica Zervan o Zurvan divinità del tempo e anche qui vediamo l'iconografia simile a quella di Aion con la testa leonina e la sfera terrestre sotto i propri piedi quindi di conseguenza queste divinità e Minosse che abbiamo già visto sono considerate divinità che appunto accompagnano l'anima nel processo sottile post mortem e lo accompagnano una seconda ovviamente Minosse solo per quanto riguarda i mondi infernali invece queste altre divinità abbiamo visto che hanno delle competenze celesti a parte Serapide che anche delle competenze inferi diciamo ma ancora più importante è sottolineare per quanto riguarda Yamadarmapala e Minosse altre caratteristiche in comune vale a dire che Yama nella tradizione induista e anche Manu che viene considerato un doppio funzionale di Yama sono considerati come i primi nati i primi morti i primi mitici legislatori esattamente come Minosse primo mitico legislatore di Creta e quindi divinizzata la sua morte che già addirittura gli autori antichi ponevano come governatore del mondo infero dopo la sua dipartita terrestre quindi vediamo che Dante riprende una dottrina pagana potremmo dire per così dire pre cristiana ancora più importante è notare che sia Yama che Minosse sono connessi al toro in qualche modo noi sappiamo bene come la tradizione cretese minoica e pensiamo anche alla leggenda del Minotauro ovviamente di Pasife sia connessa al toro ai culti del toro e noi vediamo che Yama che anticamente veniva rappresentato con corna cervine viene poi rappresentato con corna taurine anzi con proprio delle caratteristiche fisiche taurine vediamo anche qui il volto proprio volto di toro una caratteristica che poi vedremo interessa anche Erlik Khan che è la divinità infera della tradizione mongola e dei popoli siberiani limitrofi insomma ancora più importante per quanto riguarda il toro è da notare come Yamadarmapala sia rappresentato lo potete vedere in queste immagini al di sotto di lui vi è un amplesso un'unione fisica tra un toro e una donna che richiama in maniera evidente la leggenda già menzionata di Pasife e poi del Minotauro ovviamente che nasce appunto dall'unione tra Pasife e il toro vediamo che sono delle connessioni iconografiche che derivano da una tradizione molto antica non sappiamo se Dante effettivamente conoscesse queste iconografie però è in dubbio che nascono da una fonte comune da quella che appunto noi abbiamo definito Sofia Perennis e poi ci sono molte altre corrispondenze tra l'inferno dantesco e questo mondo denominato Yamaloka cioè questo mondo sottile a cui l'anima cede post mortem per esempio se nella Divina Commedia noi troviamo il cerbero tricefalo ad accogliere le anime nell'inferno e nello Yamaloka troviamo Siyama e Sabala che sono due cani infernali cani di Yama figli della Cagna Sarama quindi anche qui abbiamo una Trimurti per così dire di cani infernali che accolgono l'anima nel mondo infernale e se nell'inferno dantesco ci sono i diavoli che pungolano o torturano continuamente i dannati nel Yamaloka questi diavoli vengono chiamati Yamaduta e sono oltre che delle figure demoniache spirituali per così dire sono anche connesse alle anime vampiriche parassitarie dei defunti che non sono riusciti ad ascendere non sono riusciti a lasciare il piano il piano terrestre in qualche modo quindi appena l'anima esce dal corpo subito l'aggrediscono l'appungolano con questi tre denti nell'iconografia hinduista e buddista e questa immagine dei diavoli che pungolano appunto i dannati con i tridenti con i coltelli eccetera identica se siete interessati a vedere l'iconografia potete potete vedere eccolo qua ho messo le torture subite nei sette o ventotto seconda delle fonti mondi sottili infernali qua vedete nell'immagine a sinistra c'è in mezzo Yama che giudica l'anima appunto vedete che tra l'altro c'è anche un altro un aiutante di Yama con questa bilancia che pesa appunto i meriti e demeriti e poi vedete nelle varie immagini come i dannati siano torturati da questi aiutanti di Yama in tutti i vari mondi sottili infernali ritorniamo ancora un attimo queste corrispondenze solo per accennare al Vaitarani che è questo fiume infuocato che circonda il Yamaloka lo Yamaloka che è identico all'Acheronte che l'anima deve superare per accedere al mondo sottile lo Yamaloka e anche qui vi è una sorta di Caronte indiano di cui non sono riuscito purtroppo a trovare il nome perché gli studiosi che io cito lo definiscono semplicemente un Caronte indiano che appunto come il Caronte dantesco aiuta le anime a superare questo Vaitarani portandoli appunto sull'Alta Sponda dove poi inizierà il viaggio vero e proprio verso la città di Yama anche qui adesso non vorrei soffermarmi troppo però dico brevemente che anche qui si parla di un obolo che l'anima deve lasciare a questo Caronte indiano per superare il fiume infernale quindi vediamo che ci sono una serie di topoi che ritornano sia nella tradizione indo-buddista che in quella dantesca ed è impossibile dimostrare che Dante effettivamente conoscesse queste tradizioni però è curioso vedere come vadano di pari passo proprio io qua ho fatto anche ho provato anche a fare un ragionamento su Carun sul Caronte etrusco anche se non è proprio della tradizione orientale però come ben saprete qua ci sono su questa sul fatto degli etruschi della provenienza degli etruschi ci sono varie teorie e anche se ormai è dimostrato che gli etruschi fossero un popolo geneticamente indo-europeo effettivamente molti di vogliono provenienti dall'Anatolia e poi si rifanno appunto citando il fatto della razza chianina che è stata portata dagli etruschi dall'Anatolia questo è sicuro ormai e quindi ho ragionato un attimo su questa cosa e l'ho connessa poi a una tradizione che vedremo dopo che è quella appunto del già menzionato Erdik Khan che è il dio infero delle steppe della tradizione mongola e siberiana e noi dobbiamo ricordare quando parliamo di mongoli quelli che noi chiamiamo mongoli in realtà sarebbe più corretto chiamare turco mongoli perché anticamente arrivano anche loro dall'Anatolia anche se sono ovviamente diversissimi da quelli che noi oggi chiamiamo turchi però venivano dall'Anatolia ed è interessante vedere poi lo vedremo come questo Carun etrusco più che a Caronte sia simile appunto a questo Erdik Khan adesso ve lo faccio vedere brevemente poi lo riprenderemo dopo il discorso perché è più lungo e si ricollega anche a Lucifero comunque Carun nella tradizione etrusca viene descritto come questo demone dall'aspetto mostruoso all'atomo munito di zanne dal naso ad un orecchio d'asino serpenti ancora una volta attorciliati attorno alle braccia carnagione bluastra e pallida come quella dei morti noi ricordiamo Yama anche qui con la carnagione bluastra e poi Erdik Khan che poi riprenderemo dopo è questo in basso a destra è difficile trovare delle illustrazioni di Erdik Khan perché si tratta di tradizioni delle steppe per cui non esistono neanche dei testi scritti che vengono riportati insomma quindi è molto difficile trovare un'iconografia però è molto simile noi possiamo vedere quella del Carun etrusco quindi la possibilità che anche questo personaggio sia stato ispirato da un personaggio appunto orientale non è secondo me così peregrina ma allarghiamo un attimo il discorso e parliamo delle corrispondenze tra i cerchi infernali e i sette naraka o patala che dir si voglia dello yamaloka infatti sia nella tradizione induisa che nell'opera dantesca questi livelli infernali sono descritti come concentrici quasi come se il precedente contenesse inferiore e così via quindi ci sono piani che si sovrappongono e ogni piano inferiore è in qualche modo compresso compreso in quello superiore e anche nello yamaloka i sette naraka che secondo altre fonti sono 28 come nel Garuda Purana in realtà sarebbero delle sottodivisioni dei sette naraka principali come appunto i cerchi gironi danteschi vediamo che appunto ogni ambiente ogni inferno è distinto da quello precedente o successivo da determinate caratteristiche opposte in uno fa freddissimo in uno via un fuoco che arde continuamente le anime subiscono vari tipi di punizione vengono torturate dai demoni nelle maniere più disparate comunque senza soffermarci troppo vediamo che le corrispondenze tra i cerchi gironi infernali danteschi e quelli induisi sono molto simili questo l'abbiamo già mostrato brevemente e tuttavia le corrispondenze non si fermano a solo livello infernale o infero perché come abbiamo detto l'anima può anche accedere dopo la morte ovviamente a dei mondi meno tragici diciamo così che appunto sarebbero quelli che si possono far corrispondere al purgatorio e al paradiso dantesco infatti nella tradizione hinduista si dice che i pitr cioè le anime dei defunti che si chiamano anche in altri modi di solito come jiva come come petra anche si chiamano però qua vengono menzionati i pitr in realtà pitr è più l'anima del disincarnato che ha raggiunto il mondo degli antenati quindi c'è già un passaggio e questi pitr possono essere condannati ai mondi inferiori ai naraka e quindi subiscono torture e dannazioni oppure possono godere insieme di piaceri e soffrire torture in questo caso il mondo che appunto vedremo da connettersi al purgatorio e poi c'è una terza categoria di anime che invece giungono nei cieli più alti e convivono con gli dèi come abbiamo detto nel Devaloka cioè raggiungendo la cima del monte Meru superando anche il Pitraloka questo Pitraloka sarebbe appunto il purgatorio quindi Yama-Loka e Pitraloka coincidono nel momento in cui l'anima non è dannata ai sette mondi inferi ai sette naraka o patala che dir si voglia in questo caso l'anima accede al mondo sottile al mondo post-mortem e la città di Yama gli appare invece non gli appare tenebrosa come nel caso precedente ma gli appare splendida allietata dai canti e dei suoni di Gandharva e Apsaras cioè entità sottili maschili e femminili rispettivamente e quindi la città essendo pur essendo la stessa città a cui giunge l'anima dannata appare in maniera totalmente diversa all'anima appare come la città del re di giustizia quindi Yama non ha più un aspetto terrifico ma invece appare come un aspetto benevolo ingioiellato sorridente e dopo aver pesato appunto meriti e demeriti dell'anima l'anima viene accompagnata da questi otto sdravana che sono delle specie di angeli che anche in questo caso ricordano molto gli angeli che accompagnano Dante nella cantica del paradiso e appunto queste anime vengono portate ai rispettivi mondi che possono essere i mondi del pitraloka che appunto sono quelli del purgatorio per così dire oppure del devaloka cioè del paradiso e infatti l'anima che accede al devaloka è praticamente la stessa cosa dell'anima che accede al paradiso dantesco anche qui viene accolta dai canti e dalle musiche di Gandhara e Psaras musica paradisiaca profumi inebrianti e addirittura in questo caso l'anima del dipartito prende posto su cari volanti luminosi che non sono altro che l'aspetto splendente di quest'anima ormai disincarnata che giunge al cospetto sempre più benigno di Yama e raggiunge poi il devaloka cioè scalando il monte Meru superando tutti i livelli del pitraloka raggiunge infine il devaloka o svarga cioè i cieli i cieli degli dei praticamente dove appunto raggiunge anche quei pitri cioè quegli antenati diventati ormai divini perché sono sono usciti dal ciclo di reincarnazioni brevemente possiamo anche parlare di alcune corrispondenze con la tradizione sciamanica vera e propria sciamanica come abbiamo già anticipato intendo sia quella asiatica quindi siberiana mongola sia quella eurasiatica cioè la tradizione lappone della finlandia oppure dell'eurasia fondamentalmente kirghisi san kazakistan in tutta questa fascia che va dal grossomodo la lungheria dalla finlandia dove vivono le popolazioni finniche fino alla siberia all'estremità orientale della siberia hanno tutte delle concezioni del mondo sottile della geografia sacra del cosmo a cui appunto lo sciamano può accedere in stato in stato appunto di contemplazione sciamanica per esempio la montagna sacra con sette o nove pioli da scalare che è come trovo un corrispettivo nella montagna del purgatorio e nei cieli nove cieli di cui sette planetari in cui che è l'anima che Dante supera per arrivare appunto al cielo più elevato di contro anche i mondi inferi sono divisi in sette o nove livelli concentrici anche in questo caso che ricordano molto i gironi infernali di Dante ma ancora più importante è che nella tradizione sciamanica si parla di un tunnel un tunnel attraverso cui lo sciamano può raggiungere i vari mondi e anzi può passare da un mondo all'altro quindi può passare dall'inferno al cielo e viceversa attraverso questo tunnel che passa attraverso l'albero cosmico la scala cosmica tutti questi simboli assiali che poi si possono connettere anche alla montagna per esempio in alcune tradizioni questo tunnel passerebbe dalla cima della montagna sacra all'inferno fondamentalmente ed è identico a quello che nella Divina Commedia viene definito il natural budello di Lucifero che è un simbolo assolutamente strano nella tradizione occidentale non esiste nulla di simile tramite cui Dante e Virgilio alla fine dell'inferno escono tramite questo tunnel strano escono sulla spiaggia dove c'è la montagna del Purgatorio quindi anche qui il simbolismo è molto simile anche se evidentemente è molto difficile che Dante conoscesse queste dottrine sciamaniche e poi infine visto che stiamo già parlando da un'ora io direi di concentrarsi su questo ultimo tema che io ho voluto portare cioè la vicinanza del già menzionato Erlich Khan divinità infera delle popolazioni sciamaniche del mongole siberiane e Lucifero e in qualche senso anche Minosse ancora c'è da sottolineare come Dante in questi nella Divina Commedia nell'inferno abbia voluto suddividere le funzioni infernali tra questi due personaggi tra Lucifero e Minosse Minosse all'ingresso dell'inferno Lucifero nel punto più basso invece invece nelle tradizioni hinduiste buddiste e sciamaniche dell'Asia la divinità infera o la divinità dell'inframondo che poi appunto prende anche caratteristiche più benevoli a seconda dei meriti delle varie anime sia la medesima cioè sia la divinità che accoglie le anime nell'altro mondo che è quella poi che sta nel punto più basso della manifestazione cosmica cioè nel nono livello infernale quello più basso infatti Rick Khan viene descritto come questa divinità infera tenebrosa irata che vive alla fine dell'inferno al nono cerchio più inferiore insomma alla connessione dei nove fiumi infernali si descrive questa questa sua dimora fatta di fango e di pietra neri anche in questo caso è circondata dai demoni suoi aiutanti è circondata da cani infernali insomma i topo sono i medesimi dell'inferno dantesco grossomodo ma è ancora più importante sottolineare come Erlich Khan e Lucifero siano si possa individuare questa corrispondenza perché anche Erlich Khan nella tradizione mongola siberiana è originariamente vista come una divinità celeste che in seguito a una pecca primordiale viene precipitata in una dimensione sotterranea e quindi guadagna in questo carattere in un certo senso demoniaco adesso prima di vedere velocemente il fatto del pianeta di Venere bisogna sottolineare come questa queste caratteristiche lo colleghino a Yama Dharma Pala d'altra parte nelle tradizioni mongole che hanno che hanno accettato in un certo senso la dottrina buddista e hanno unito sciamanismo e buddismo Erlich Khan e Yama Dharma Pala sono la medesima cosa tra l'altro anche Erlich Khan viene nell'iconografia viene rappresentato con corna taurine o corna cervine e poi ha una serie di caratteristiche funzionali come il fatto di essere anche qui il primo morto lo scopritore della via meridionale dei defunti che quindi è inaugurato e gli sciamani neri cosiddetti giungono da lui per apprendere i segreti per conoscere la via tutte queste cose si possono connettere sia a Yama che a Minos appunto nella tradizione occidentale diciamo ma è ancora più importante la correlazione con il pianeta Venere perché sia Lucifero nella tradizione occidentale che Erlich Khan in quella orientale viene visto anche come il responsabile della caduta da un cielo perfetto da un cielo primordiale che in qualche modo l'individuo lasciando appunto il circolo delle reincarnazioni dovrà poi alla fine raggiungere o questo almeno auspicabile per lui e quindi sia Lucifero che Erlich Khan sono connessi nella rispettiva tradizione a questa lo definisce così un noto studioso francese la rottura del patto che lega gli astri questo deragliamento cosmico che sarebbe avvenuto in illo tempore e avrebbe causato la fine dell'età primordiale e avrebbe anche creato un nuovo cielo in qualche modo il pianeta Venere quindi viene demonizzato e di conseguenza cadendo dal cielo primordiale viene appunto pensato come una caduta vera e propria negli inferi nel mondo inferiore nel mondo sotterraneo e poi si può sottolineare anche una finità semantica tra Erlich Khan e Erlich Kino che tra l'altro originariamente sappiamo che era anche egli un demone governatore del mondo infero ma anche un demone della fecondità della vita come tra l'altro anche lo stesso Plutone e Aden nella tradizione greca e anche sottolineiamo questa connessione semantica con Erlich Koneg che nella tradizione tedesca germanica più che altro significa il re del mondo inferiore il re dell'inferno il re degli inferi e solitamente in questa tradizione è il re delle fate o il re degli ignomi che appunto nel folklore nella tradizione dei paesi celtici germanici sostituisce Erlich Khan oppure Yama nella tradizione induista e anche in questo caso ci sono dei racconti di persone che raggiungono il mondo inferiore il mondo sottile in questo stato alterato in questo stato diciamo così non più umano in questo stato sottile e nella tradizione poi celtica o germanica si parla di queste di queste visite al mondo sottile come delle visite al mondo delle fate comunque interessante adesso non mi vorrei soffermare troppo però è interessante vedere come il mondo delle fate nelle tradizioni occidentali è sempre legato al destino quindi al dharma della tradizione induista e le fate e queste entità sottili siano appunto connesse al destino dell'anima disincarnata anche nella tradizione occidentale quindi chiudiamo anche brevemente mostrando queste iconografie tipiche di Lucifero e l'ultima è Erlich Khan ovviamente Lucifero come ha già notato qualcuno viene descritto da Dante come tricefalo qua possiamo vedere così detto per inciso un'altra connessione con la tradizione orientale ovviamente le famose divinità a tre volti della tradizione induista ma ancora più importante è il fatto che Lucifero venga descritto come bloccato in questo ghiaccio infernale nel nel fiume in questo mi sembra sia il cocito e e questa caratteristica ce lo riconnette a una divinità occidentale che se noi analizziamo alle stesse medesime funzioni c'è Saturno che anticamente Dio dell'età dell'oro viene infine precipitato sulla terra anzi nel tartaro quindi nel mondo infero proprio al suo estremo infero dopo questa dopo questa pecca rituale diciamo così che in questo caso è la la battaglia tra gli olimpi e i titani e poi viene precipitato da Zeus nel tartaro nella tradizione italica Saturno viene precipitato nel sottosuolo del Lazio che prende il nome dal verbo latere latino cioè nascondere Saturno Dio dell'età dell'oro viene nascosto nel sottosuolo del Lazio e viene in qualche modo imprigionato legato e infatti la studiosa Emanuela Chiavarelli sottolinea l'ambiguità del termine peccato derivante dal latino pedicatum che rinvia a pedica cioè al cappio all'acciolo che tiene legato questa divinità nel mondo infero e quindi questa legatura podalica che contrassegnava Saturno nella tradizione occidentale pre cristiana viene ripresa da Dante nella figura di Lucifero cioè è Lucifero che adesso è captivus cioè prigioniero e al tempo stesso anche cattivo in un certo senso è al culmine della malvagità diciamo così del mondo infero però anticamente captivus voleva dire appunto legato prigioniero e qui vediamo appunto una connessione con il Lucifero dantesco e niente quindi questo impedimento podalico riguarda appunto sia Saturno che Lucifero ma anche Erlich Khan che appunto nella tradizione mongola sta al livello più basso degli inferi al nono cielo degli inferi al nono scusate al nono cerchio quello inferiore qua vediamo delle illustrazioni di Lucifero storiche vediamo qua l'impedimento podalico così dire che abbiamo menzionato anche in questa di Dore mi sembra e infine per chiudere questa nostra bella chiacchierata che spero sia stata di vostro interesse vi è da sottolineare come il pianeta venere nella divina commedia noi sappiamo che il pianeta venere nelle tradizioni sacre sia in qualche modo duplice da una parte legato appunto all'uscifero agli angeli caduti al male per così dire ma dall'altro viene sempre connessa una figura femminile che è quella figura femminile che aiuta l'anima nel viaggio sottile per raggiungere poi i cieli superiori che è praticamente la daena nella tradizione iranica oppure può essere la valchiria o la filgia nella tradizione norrena e la fata appunto che abbiamo già menzionato in quella celtica e infatti sempre Emanuela Chiavarelli e Luigi Pellini fanno notare come e cito se venere lucifero porta il peso di questa colpa primordiale la dea venere come essenza del dinamismo coesivo dell'universo pare costituirne la soluzione simbolismo commento io analogo a quello della principessa del drago nelle saghe medievali che appunto Dante sembra aver ripreso nella figura divinica di Beatrice se avrete ovviamente già pensato che è un doppio funzionale della venere afrodite urania nella tradizione antica pre cristiana e quindi come sempre citando Pellini e Chiavarelli nel contesto della trasgressione cosmica dei primordi delle origini venere e la polare in questa geografia sacra risultano connessi a questa perduta solarità delle origini di cui sono un riflesso quindi da una parte è la cosmologia dantesca a livello più infimo a livello più infero troviamo relegato lucifero io scrivo così un po' in maniera colorita nel punto più basso più abissale del mandala cosmico simbolo paradigmatico della perduta condizione perfetta delle origini dall'altra invece a fare da contraltare abbiamo Beatrice che sta a rappresentare venere come portatrice di luce come stella del mattino lucifero ovviamente come stella della sera che aiuta il poeta a riavvicinarsi nuovamente alla primigenia perfezione delle origini perduta appunto attraverso la caduta di lucifero sono argomenti come potete immaginare altamente complessi che ho provato a riassumere in questa breve ora di conversazione ma nell'articolo che verrà pubblicato su Altos sulla rivista appunto in uscita entro Natale penso potete trovare molto di più ho scritto più di 30 pagine sull'argomento anche parlando meglio dei punti che ho toccato oggi io spero che sia stato di vostro interesse e se qualcuno di voi ha delle domande sono a disposizione grazie a tutti grazie Marco grazie Marco scusa una domanda sarebbe interessante sapere quale delle due tradizioni e cioè tra la tradizione hinduista e buddista e l'altra invece sciamanico mongola quale delle due è stata per prima presente nella Toscana del 2002 e che quindi può aver influenzato il maestro di Dante eccetera allora questa è una domanda molto interessante che anche io mi sono posto sicuramente la tradizione mongola non arriva in occidente prima di Marco Polo si pensi quindi si può pensare che dalla via della seta arrivino le prime le prime notizie su questo tipo di tradizione però molti studiosi fanno notare come la stessa tradizione sciamanica sia stata in realtà influenzata precedentemente sia da una parte dall'induismo e dall'altra dalla dottrina iranica quindi dalla vesta che presenta peraltro delle connessioni che io adesso non ho riportato però comunque anche qui nella vesta si parla del viaggio nel mondo sottile da parte dello shaman dell'operatore mistico che deve superare questo ponte stretto come un capello oppure una serie di topoi che poi ritornano nella tradizione sciamanica quindi scusa però ti interrompo è vero infatti tutti sanno che la vesta è quello si pensava fosse stata l'ispirazione di Dante invece adesso la rappresentazione che hai fatto tu ciò non è vero cioè c'è tutto un mondo più grande che meno male ripeteva le stesse cose ecco questo è interessantissimo quindi la vesta non è l'unica fonte no assolutamente io nell'articolo ho scritto con questa locuzione che tutte queste tradizioni si possono vedere come i vari raggi della ruota della Sofia Perennis appunto che poi è anche difficile obiettivamente sapere da dove Dante abbia preso la singola dottrina la singola io suppongo che non abbia preso semplicemente un po' di qui un po' di là ma che in un ambito iniziatico era quello poi dei fedeli d'amore Dante avesse appunto fosse entrato in contatto con delle dottrine iniziatiche sacre che già erano occidentali in quel momento che però noi possiamo ritrovare poi nelle tradizioni orientali anche raga di qualche cosa secondo la tua opinione volevo far vedere un libro che sto leggendo che è Dante ai fedeli d'amore scritto da Renzo Manetti forse lo conosci ah ecco no non lo conosco però mi informerò grazie è abbastanza recente però adesso a parte i fedeli d'amore volevo capire qual è la base filosofica delle iconografie animali nella tradizione orientale perché per Dante è probabilmente la tripartizione dell'anima aristotelica no? anche qui però vorrei sottolineare come anche nella tradizione orientale vi è questa tripartizione dei tre gun appunto noi vediamo allora gli animali nella tradizione orientale buddista sono stanno sempre a significare delle inclinazioni dell'anima che portano appunto l'individuo nel ciclo delle rincarnazioni però secondo me è interessante soprattutto la numerologia noi sappiamo che la divina comedia è fondata su una numerologia ben precisa fondata sul tre sul trentatré sul nove dicendo e noi vediamo che questi sono i medesimi numeri che ricorrono anche nella tradizione buddista sciamanica induista soprattutto il tre e il trentatré perché tra l'altro la tradizione sciamanica della Mongolia riprendendo quella indo-iranica pone il numero di spiriti cosmici il numero di trentatré o di trecentotrentatré e anche qui poi si possono moltiplicare per tre diventando novantanove o novecento novantanove e questo prego scusa perché alla base c'è una tradizione filosofica comune per esempio pitagorica o sono tradizioni diverse fondate magari sulla Sofia perenne certo sì io penso di sì grazie grazie giusto per magari può sembrare banale però per diciamo contestualizzare l'intervento di stasera un po' nelle lezioni che sto facendo anche per chi segue il corso di storia dell'esoterismo sicuramente l'approccio di questa sera è molto in linea con una diciamo metodologia che forse sto toccando solo negli ultimi incontri ma che di fatto è un po' quella che adotto anch'io che riunisce da un lato il comparativismo che è un metodo storico-religioso che ha avuto tra i suoi massimi interpreti autori come Dumesil Eliade e anche in parte lo stesso Cugliano e poi degli stimoli che vengono invece appunto dal mondo della Sofia Perennis del pensiero tradizionale quindi con i vari Genon Kumaraswami Evola che vi ho varie volte citato l'interesse di queste analisi per quanto diciamo si insinui anche in aspetti più storico-filologici però non è tanto appunto di solito filologico ma è piuttosto senza rinunciare alla filologia perché non bisogna fare asserzioni a caso ma piuttosto legato proprio all'interesse di carattere simbolico-metafisico che diciamo senza trovare magari una piena comprensione ma sicuramente determina un grande fascino ecco vedere come tradizioni così diverse fra loro da un punto di vista storico-genalogico presente in una simbologia così affine deve far riflettere poi le spiegazioni delle ragioni di questa affinità sono molto varie perché nella scuola della Sofia Perennis è una posizione metafisica molto forte legata all'unità trascendente delle religioni quindi è una sorta di rivelazione primordiale altre metodologie più recenti diciamo meno metafisiche rinunciano diciamo a trovare in qualche modo una spiegazione dell'origine ma si pongono in maniera più empirica alla ricerca di questa affinità c'è la grande teoria di Jung dell'inconscio collettivo che poi è stata sviluppata da tanti altri autori che ulteriormente dà un possibile contesto interpretativo cioè in tutti i popoli pur nella loro differenza si manifestano archetipi comuni e così via ci sono i grandi studi sulle tradizioni indoeuropee che sicuramente facilitano la possibilità di immaginare che nei territori della cosiddetta Eurasia che è stata evocata per quanto l'origine di certe conoscenze si perda nell'alba dei tempi c'è una traccia forse quasi vuol dire nascosta nella nostra lingua nella nostra psiche nei nostri modelli cognitivi che porta alle grandi tradizioni religiose a formalizzare in modo simile certi temi ma proprio anche nell'iconografia come ho cercato di dimostrare adesso ve ne dico un'altra brevemente ho già citato il fatto che nello sciamanesimo euroasiatico lo sciamano accede ai mondi superiori ai sette o nove mondi superiori a seconda che si tratti solo di quelli planetari oppure anche con le sede fisse eccetera e questa immagine nello sciamanesimo asiatico viene rappresentato come una scala a pioli l'operatore sciamanico passa da un cielo a quello successivo salendo questa scala a pioli ora mi è venuto in mente nella cattedrale di Notre Dame che tra l'altro si può benissimo connettere ai fedeli d'amore il periodo è quello il luogo è quello vi è questa allegoria dell'alchimia con questa figura che in mano ha proprio questa cosiddetta scala filosofarum che ha nove pioli tra l'altro e quindi anche qui vediamo un'iconografia un po' nascosta volendo anche nell'architettura cristiana che però come io ho pensato e come ho cercato di dimostrare si può ritrovare in varie aree geografiche in varie epoche diverse della storia dell'umanità e via dicendo pare poi che questa analisi sia molto interessante perché io non sono ecco non ho mai studiato in maniera approfondita il tema ma ormai da alcuni anni c'è molta letteratura su diciamo l'influenza del mondo islamico sul sul pensiero di Dante che pure è un'influenza molto interessante perché forse anche un po' più facile diciamo da dimostrare in termini appunto storico-filologici che diciamo mette un po' in discussione certi archetipi l'idea di un Dante come dire paladino di una cristianità anti-musulmana evidentemente scompare di fronte a queste questa grande unità di fondo del pensiero mistico e spirituale però ecco questa interpretazione ecco che è molto molto interessante sicuramente più diciamo pionieristica e fa da corollario a questi studi che hanno contestualizzato Dante sicuramente in primo luogo nella tradizione del misticismo cristiano che sono palesi certi richiami poi nei suoi rapporti con l'influenza islamica e poi anche con l'oriente ma io sono sono quasi sicuro che scusa scusami io sono quasi sicuro che anche i testi islamici che solitamente si riportano fare comparazioni con la divina commedia comunque risentono di un'influenza più antica che può essere quella indo-iranica o può essere però è evidente secondo me che non ha senso separare tra dottrina cristiana dottrina islamica dottrina induista quando si parla di questo tipo di esperienze tu hai citato bene ioan petro culiano se noi leggiamo il suo storico libro i viaggi dell'anima vediamo come tutte queste esperienze mistiche nelle varie tradizioni dalla babilonia all'egitto all'antica e via dicendo fino al cristianesimo fino all'islam noi vediamo che le esperienze sono molto simili hanno tutti i stessi topoi i mondi sottili sono tutti descritti in una certa maniera che si richiama quindi qui l'idea è che ci sia una conoscenza precedente non lo so pretertemporale è difficile da definire però comunque qualcosa che esula dalla mera storia delle religioni intesa come storia dei popoli e delle culture religiose separata l'una dall'altra certo non so se c'è qualche altra domanda curiosità bene allora credo che insomma possiamo concludere io ringrazio ancora Marco per la disponibilità grazie a voi se mi segnali quando esce il contributo magari lo segnalo anche a loro così se qualcuno certo volentieri se è particolarmente interessato poi su Axis Mundi metterò a disposizione le slide che avete visto oggi se nel caso volesse scaricarle grazie bene piacere sicuramente grazie Marco grazie a voi che è un piacere grazie grazie buona serata a tutti e vi saluto grazie a tutti grazie grazie buona serata grazie vediamo con alcuni di voi alla prossima ciao